sono le 00 e 40 quindi luna meno 20 di lunedì sera e ho appena concluso l'asta del fantacalcio assieme ai miei amici allora prima di cominciare vi invito a scaricare one football perché comunque se state cercando di fare l'asta del fantacalcio anche voi o se presto lo avete avrete sicuramente bisogno di un'app che vi permetterà di rimanere sempre costantemente perennemente aggiornati per quanto riguarda il mondo del calcio non si sa mai un caso di covid qua un infortunio di là su one football se restanate alla vostra squadra del cuore completamente gratuita e avete in temporale tutte le notizie tutti gli aggiornamenti il link qui sotto in descrizione vi invito a farlo e ovviamente lasciate un mi piace a questo video e un commento per farmi sapere se la mia rosa vi piace oppure no perché c'è caso che magari qualcuno di voi non sia amante dei giocatori che ho scelto e che possa benissimo arrivare a dire luca no guarda hai fatto una squadra che lascia stare fa veramente schifo il fantacalcio quest'anno non lo volevo fare so che sembra una roba molto da youtuber dire questa cosa ma è così perché da qualche anno a questa parte avevo deciso di affrontarne soltanto uno per non farmi coinvolgere troppo a livello emotivo dai calciatori e non andare anche a pensare male rispetto alle altre squadre la stessa juve che magari ha risultato già conquistato che sa magari giocatore della juve potrebbe sbagliare un gol perché magari mi gioca contro quindi sono quelle cose proprio che non mi piacciono ma i miei amici erano rimasti in set senza di me il fantacalcio sarebbe saltato già l'anno scorso non avevo partecipato se non a quello degli youtuber tra l'altro abbiamo vinto io il buon daniele brogna e vedrete che ci saranno dei movimenti comuni a quella rosa dell'anno scorso del fantacalcio youtuber in questa rosa che ho allestito abbiamo fatto quest'asta ho fatto la live reaction vi metterò qualche spezzettone degli acquisti più importanti ma soprattutto vi farò vedere la mia rosa le rose degli altri vi spiegherò alcuni acquisti e perché sono veramente molto molto soddisfatto della squadra che ho costruito tra l'altro fantacalcio a 8 come vi ho già detto 500 milioni di budget iniziale suddiviso in tre portieri 8 rifensori 8 centrocampisti e 7 attaccanti quindi una cosa molto molto classica non è ovviamente un fantacalcio mantra e devo dirvi la verità sono riuscito a seguire lo schema che da tanti anni a questa parte contraddistingue un po le squadre che ho avuto in gestione al fantacalcio alcune volte è andata bene alcune volte è andata male speriamo che quest'anno possa andar bene ma in tanti anni di fantacalcio so che non solo la costruzione della squadra ti porta a determinati risultati c'è molto il fattore c quello legato alla fortuna anche se fortuna inizia con la f ma avete capito tutti di cosa stiamo parlando legato al calendario legato agli avversari legati ai gol che si subiscono insomma non solo la squadra che ti fai te ma le squadre che ti trovi contro però iniziare bene costruendosi una squadra forte in tutti i reparti con degli ottimi giocatori che magari non ti faranno mancare bonus presenze e soprattutto costanza continuità rendimento e questa è una cosa che fa bene e quindi ecco qua i miei 25 direi che la somma di quei numeri fa 25 giocatori scelti per la mia brainstorm il nome della mia squadra del fantacalcio prima di iniziare però devo assolutamente ringraziare il caro carmi special che ha fornito questo file all'interno del suo canale youtube magari vi lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione se anche voi avete problemi col fantacalcio perché io onestamente non mi ero preparato nulla praticamente lo avete visto nella live che abbiamo fatto insieme su twitch soltanto due giorni fa quindi nella giornata di domenica invece lui si è preparato per bene per usare un ufemismo e ha creato veramente un file di aiuto veramente di gestione dell'asta incredibile quindi questo stesso file che state vedendo adesso compilato da me lo potete trovare sul canale di carmi special non fatevi mancare la possibilità di andare sul suo canale ok allora il primo portiere in assoluto chiamato durante l'asta è stato buffon a 1 e qualcuno poi buffon invece che a 1 come potete vedere è qua se l'è pigliato a 10 io sono questo toso toselli toso scesni è il mio portiere titolare e non c'ho il suo vice cioè buffon proprio perché era andato via 10 e secondo me 10 erano eccessivi per buffon anche perché non ero nemmeno convinto che sarei riuscito poi a prendere scesni quindi ho assolutamente mollato e mi sono buttato fiondato con prepotenza su scesni è un fantacalcio con modificatore è una cosa che non vi avevo detto prima e sono dell'idea che avere dei portieri forti come scesni come andanovic come donnarumma ti agevolerà tanto nel corso della stagione e quindi ho voluto puntare su uno dei portieri non plus ultra quindi il portiere della juventus e se volete sapere un po come la penso sull'juventus di pirlo quest'anno vi basterà guardare un po la mia rosa del fantacalcio per capire quanti giocatori da juventus effettivamente sono venuti a casa con me intanto il primo in assoluto è scesni il nostro tech viene a casa per 57 forse pagato un pochino tanto ma ripeto sono dell'idea che un buon portiere valga veramente tanto quasi come un buon attaccante e poi ho associato silvestri e musso che comunque secondo me sono due portieri nonostante non siano di squadre super top ma due portieri molto affidabili musso in questo momento infortunato lo aspettiamo speriamo che possa tornare presto e silvestri è ben figurato l'anno scorso però vi dico che sto provando a prendere buffon in uno scambio dato che questo questo giocatore con mirante e cranio e appunto buffon non si sente sicurissimo in porta e quindi potrebbe nascere qualcosa di interessante con uno tra silvestri e musso quindi ho speso 59 per i portieri per i difensori invece mi ero dato un nome su tutti quadrado volevo assolutamente arrivare a prendere quadrado volevo dei giocatori che potessero giocare non solo in posizioni di difensori centrali ma anche esterni e anche esterni alti e quindi mi sono fiondato su alcune squadre di alta classifica che giocano con la difesa appunto a tre per avere gli esterni alti la juventus la roma è l'atalanta quindi quadrado spinazzola a tebur credo che siano veramente tre giocatori molto 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 forti pagati anche il giusto forse qualcosina di più ma si parla veramente di una spicciolata di crediti magari quadrado 15 spinazzola 20 a tebur 20 25 quindi veramente pochi crediti pagati in più sono stato quello che ha speso di più in assoluto sulla difesa dopo vi farò vedere tutte le squadre aggiornate ma volevo praticamente avere sempre opportunità di giocare a quattro in difesa perché credo che il bonus del modificatore sia molto interessante e che permetta di ricevere dei punti extra difficilmente ottenibili con solo gli attaccanti centrocampisti o altri giocatori quindi ho cercato questi tre terzini che in realtà sono esterni secondo me sono assolutamente titolari all'interno delle loro squadre e quindi molto molto importante averli in rosa e poi ho completato con delit a 16 che mi sembra un ottimo prezzo per un giocatore che sicuramente è di rendimento affidabile potenzialmente un titolare inamovibile della juventus quando tornerà è un giocatore che comunque è in grado di portare non solo buoni voti per il modificatore ma anche qualche bonus tra gol e assist mi ricordo l'anno scorso l'assist per il gol anzi il gol nel derby e comunque tante altre prestazioni di ottimo livello di delit che lo porteranno sicuramente essere uno dei migliori difensori di questo campionato kier a 2 che sicuramente può essere un difensore utile come riserva probabilmente non nella batteria dei titolari scrignere la mia scommessa perché lo considero veramente un giocatore di altissimo livello l'anno scorso ho avuto un po di problemi nella difesa 3 io per 6 crediti con anche una difesa abbastanza coperta me lo vado a prendere e secondo me alla lunga potrebbe trovare posto al titolare e poi ci sono muldur e luis felipe che si sono giocatori titolari affidabili che comunque non sempre saranno chiamati in causa per per una maglia da titolare secondo me non ci saranno difficoltà almeno sulla carta a schierare una difesa 4 in grado di portare bonus e anche un modificatore elevato quindi quadrado spenazzola atte burde litte e gli altri in panchina bene o male altri due titolari si riusciranno a fare sempre 92 per i difensori ho speso tanto ma sono soddisfatto a centrocampo invece ho voluto prendere diversi profili in grado di garantire qualità bonus prestazioni titolarità come vi dicevo comunque la difesa sarà 4 quindi probabilmente o un 4 4 2 o un 4 3 3 sono più indirizzato verso il 4 3 3 per schierare quanti più centrocampisti di qualità tra i tre titolari e due in panchina malinos che un mio pupillo un mio pallino un giocatore che mi piace da matti non assolutamente un titolare atalanta ma quel classico giocatore di rottura che entra e cerca di spaccare la partita o comunque una riserva del papo nelle giornate in cui gomez dovrà riposare ma malinos che un giocatore che mi piace veramente tanto come per 25 fanta milioni non dico regalato ma un ottimo prezzo e quindi sono soddisfatto poi depol lo sapete quanto sono innamorato di depol ne ho parlato anche in chiave juventus all'interno di tanti video di calcio mercato quest'estate un giocatore che mi sarebbe piaciuto anche vedere a torino proprio maglia bianconera è rimasto a udine credo che sia uno dei giocatori di qualità più di qualità presenti nella rosa appunto dei bianconeri ma di udine è sicuramente un giocatore molto molto interessante da poter schierare centrocampo e ricevere qualche bonus tipo goal e assist inaspettati anche ma comunque per un giocatore come depol sono essenziali vere tu l'ho preso ho spinto un po di più è il centrocampista che ho pagato di più all'interno della mia batteria non è un giocatore offensivo è un giocatore che gioca davanti la difesa ma ha la peculiarità ogni tanto di trovarsi in area e soprattutto di trovarsi a suo agio in area di rigore quando bisogna prendere quella palla che scotta dagli 11 metri e tirarla nella porta avversaria quindi il rigorista della roma noi lo conosciamo bene perché comunque a roma ci ha fatto una doppietta spero che non abbia esaurito le cartucce proprio con la doppietta la juventus mi auguro che possa fare anche altri gol alle altre squadre ora che siamo una coppia vincente si spera al fantacalcio poi bentancur sapete non sono un grandissimo fan di bentancur non credo che sia un giocatore da livelli allucinanti lo considero un ottimo centrocampista l'anno scorso in assoluto il miglior centrocampista della rosa della juventus spero che possa essere un titolare anche compirlo credo che possa essere un titolare anche compirlo lì davanti alla difesa e che quindi possa fare delle buone prestazioni quindi 3 tra malinoscri e polvere tu e bentancur dovrebbero esserci sempre e ho inserito rog linetti pulgar e zaic questi ultimi due in realtà giocatori che potrebbero portare anche qualche bonus in aspettato pulgar lo sappiamo un ottimo piede tiratore ottimo di calci da fermo anche lui probabilmente possibile rigorista cosa che potrebbe essere pure zaic eventualmente vedremo se poi il genua riuscirà a uscire da questo incubo chiamato covid che lo ha un po' attanagliato ma zaic è un giocatore di assoluta qualità qui in questo centrocampo vedo tantissimi piedi buoni quindi anche il centrocampo sebbene non sia costituito dai top del reparto come papu gomez come mkhitaryan o come tanti altri vedo dei giocatori molto molto interessanti e in grado di portare tanti bonus anche in un centrocampo 3 e poi veniamo all'attacco perché belotti geco morata berardi simone gervinio sono sono un attacco onesto un attacco che mi sono dovuto inventare perché sono arrivato un po corto di crediti alla fine avevo speso un po troppo in difesa un po troppo a centrocampo un po troppo in porta quindi è il secondo più povero arrivato agli attaccanti e poi sono partiti sapete com'è i superbotti ronaldo lukaku immobile duvan zapata e io facevo i conti e dicevo bisogna fare qualcosa e poi si arriva a quel classico punto di stallo in cui i giocatori che hanno speso tanti crediti per i big iniziano a fare i conti e cercano di capire se riescono ad arrivare a fine mese e invece tutti gli altri iniziano a offrire timidamente per i vari giocatori anche di prima o di seconda fascia belotti geco sono due giocatori titolari importantissimi per rome torino geco ormai è una costante e me fantacalcio perché quel classico giocatore che secondo me ha sempre un rendimento affidabile e che poi in realtà alla fine dell'asta non viene neanche pagato chissà quanto credo che sia una buona valutazione 86 per geco come un'ottima valutazione 67 per belotti come immaginavo morata dei tre della juventus è quello che costato meno soltanto 40 contro i 91 di rivala e più di 200 di cristiano ronaldo quindi molto proporzionato a seconda anche di quelle che sono le idee dei tifosi juventini sono anche dell'idea che morata 40 sia un buon colpo in un fantacalcio 8 anche vedendo i presti degli altri giocatori che sono andati via dopo vedrete anche tutti gli altri giocatori a quanto sono andati via sono tre numeri nove belotti geco morata sono tre giocatori che comunque la doppia cifra la dovrebbero raggiungere senza problemi qualcuno come belotti potrebbe addirittura battere i rigori quindi mi sento abbastanza tranquillo in fase realizzativa poi ci sono simeone che è un altro che anche l'anno scorso era un po il mio quarto giocatore quello pronto a essere schierato titolare ogni tanto oppure riserva ogni tanto ma che comunque qualche gol te lo porta sempre berardi che secondo me mai come in questo momento è il vero e proprio trascinatore sassuolo non magari sotto il profilo dei gol ma sotto il profilo dell'esperienza un giocatore che è quasi il capitano aggiunto di questa squadra che ormai è in serie a da tantissimo tempo conosce molto bene reggio emilia e con de zerbi può fare veramente una buona stagione potenzialmente anche un titolare volendo in alcune occasioni magari quando morata non partirà titolare si potrà puntare su berardi anche in caso di partite non necessariamente complicate poi c'è giervinio che a uno secondo me è un ottimo affare in questo parma un po ridimensionato dalla partenza di kluseschi credo che giervinio sia effettivamente l'uomo in più l'uomo al quale anche lo stesso liverani cercherà di aggrapparsi per regalare una salvezza alla squadra emiliana e quindi qua potete vedere tutte le squadre qua ci sono anche le rose dei dei miei amici dei miei rivali fatemi un po sapere qui sotto nei commenti secondo voi qual è la rosa migliore qual è la rosa meglio costruita ripeto io più guardo la mia e più mi sento soddisfatto dei ragionamenti che sono stati fatti non c'è un vero e proprio top player il giocatore che dice wow l'ho strapagato il più pagato della rosa è stato gecko il secondo più pagato belotti il terzo scesne addirittura che il portiere ma secondo me ci sono tanti giocatori chiave all'interno delle squadre effettive di serie a e immaginarmi un 4-3-3 con uscesni quadrado spinazzola ate burdelit malinoski depol vere tu belotti gioco morata come titolari è un'ottima squadra con eventualmente musso scrignar muldur e poi che abbiamo bentancur lo stesso pulgar eventualmente in panchina insieme a berardi simeone eventualmente c'è anche una discreta tribuna e quindi io mi sento abbastanza coperto poi vedremo un po come andrà ma secondo me la squadra è stata costruita con un senso logico poi non dico che sia la più forte non dico che vincere il contacalcio perché ripeto qua entrano in gioco altri fattori ma sono soddisfatto dei ragionamenti che ho fatto durante l'asta fatemi sapere la vostra opinione qui sotto e niente adesso vi lascio un po di highlights di quando giocavo di quando giocavo di quando compravo i calciatori non è niente di entusiasmante perché ero molto concentrato a cercare di tenere l'ordine in sala però dei colpi più costosi dei giocatori più iconici magari dei titolari che vi ho detto prima vi voglio lasciare assolutamente la mia reazione che sarà un po una reazione da morto bene ragazzi fatemi sapere se questo contenuto un po diverso inerente al fantacalcio vi è piaciuto se dovessimo fare quello degli youtuber vi porterò se vorrete se questo contenuto sarà apprezzato un video simile ma vedrete anche probabilmente l'asta in diretta voglio sapere anche la vostra sui vostri fantacalcio lo farete quest'anno avete già iniziato il covid di spaventa fatemelo sapere 57 1 57 2 57 3 era per rubargli 7 crediti tutto sto casino chiama chiama che non c'è tempo quindi poi ti insiogli donna rum 1 2 10 e 1 2 e 3 e 3 26 1 25 1 25 2 25 e 3 27 25, 26, 27, 27 e 1, 27 e 2, 27 e 3, 27 e 3 è tuoso ragazzi, ma no ma stiamo guardando si deve sciogli, 33 e 1, 33 e 2, 33 e 3, finiscono il giocatore, non mi cassa, 67 e 1, 67 e 2, 67 e 1, 67 e 2, 67 e 3, guarda quel punto, 82 e 1, 86 e 2, 86 e 3, chi? Dzeko, io, 41, 42, 43, io, io,